Poi è evidente che il lockdown serve molto di meno se tu hai messo in atto una serie di misure come è stato fatto in Giappone, in Corea del Sud, che testano, tracciano i contagiati e quindi evitano di arrivare a un escalation che poi porta a dover chiudere, quindi è tutto collegato. Ma poi è anche strano negare adesso, agitando un paper, un'esperienza. Lasciamo un attimo perdere la scienza e i modelli, un'esperienza che abbiamo vissuto tutti, di cui tutti siamo stati parte. Intanto ricordiamoci che il lockdown, oggi chiamiamo un po' tutto lockdown, quello che noi abbiamo veramente vissuto come lockdown è quello della primavera scorsa, dopo si è trattato di misure di mitigazione dei contatti sociali, della mobilità, modulati rispetto alla curva. Il lockdown l'abbiamo vissuto in quelle settimane, ricontestualizziamo quei giorni, avevamo un virus totalmente nuovo, non sapevamo nulla, non avevamo i test. Ci siamo rifugiati in quelle che erano le misure che venivano dalla tradizione millenaria. È chiaro che è un approccio molto aggressivo e drastico e sovradimensionato. Possiamo parlare di come il lockdown sia una misura sovradimensionata, ma era sovradimensionata la situazione in cui eravamo. Dopo siamo lentamente diventati più sofisticati nel negoziare. Certo, nel dosare queste misure.